Con noi domenica scorsa più di 8.000 persone hanno seguito la festa patronale della Madonna dei Miracoli di Mussomeli, partecipando come se fossero tra il pubblico, da punti di vista privilegiati, ammirando immagini, gesti, simboli, toccanti e significativi. Dal 2007 raccontiamo la storia, le tradizioni, i protagonisti, ogni angolazione, tutte le sfumature, fino alla fine.